perché è un valore fondante per noi esseri umani. Dennis era un mio amico e è un mio amico e continuerà ad essere un mio amico. Ha fatto delle scelte politiche che io non condivido, perché oggi ritengo che Verdini sia più renziano di Renzi, però lo fa forse in uno spirito di cercare di costruire qualcosa di diverso. Io non cerco di costruire qualcosa di diverso, cerco di ricostruire quello che abbiamo ancora assolutamente, ma che forse possiamo fare ancora meglio.